buongiorno a tutti e ben ritrovati alla rubrica domanda risponde oggi 26 ottobre parleremo di concorsi a cattedra e anche del concorso per dirigenti scolastici trovo una tematica di attualità è molto importante veniamo alla prima domanda chi è entrato in ruolo attraverso il concorso straordinario bis potrà acquisire entro l'anno scolastico 2022 2023 5 cfu oltre 24 cfu in ambito pedagogico e sociologico diciamo che li dovrà necessariamente acquisire c'è il docente che entrato in ruolo o entrerà in ruolo tramite il concorso straordinario bis dovrà completare il suo iter concorsuale svolgendo un corso di formazione di 40 ore pari a 5 cfu in ambito didattico pedagogico di sociologia generale di pedagogia sperimentale sono appunto 5 cfu 3 del primo ambito uno di sociologia generale è uno di pedagogia sperimentali tali compitenze competenze acquisite nel corso di formazione dovranno essere valutate tramite una prova di esame finale se la prova non dovesse essere superata viene preclusa tutta la procedura per il ruolo definitivo cioè per il passaggio da contratto a tempo determinato che è attuale a quello di tempo indeterminato al primo settembre 2023 domanda numero due quali sono i requisiti per poter partecipare al concorso dei dirigenti scolastici che si presume dovrà andare dovrà essere espletato nel 2023 può partecipare al concorso per dirigente scolastico il personale docente ed educativo in possesso delle seguenti requisiti essere assunto con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali essere stato confermati il ruolo dunque aver superato l'anno di prova dunque deve esserci un superamento dell'anno di prova deve essere in possesso del titolo di studio idoneo per esempio la laurea magistrale o specialistica o la laurea vecchio ordinamento dovrà avere svolto cinque anni di servizio non necessariamente tutti il ruolo può essere svolto a parte il ruolo e parte anche con contratti a tempo determinato purché siano stati svolti 180 giorni o l'anno continuativo dall 1 febbraio fino a scutini compresi e dovrà anche avere il possesso delle requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni tipo la cittadinanza il diritto dei diritti politici eccetera vediamo alla domanda numero 3 chi possiede 24 cfu potrà accedere ai concorsi naturalmente fino al 31 dicembre del 2024 dunque tutti i concorsi che accadrà senza il bisogno di acquisirne 30 o addirittura 60 cfu vediamo di dare una risposta diciamo articolata a questa domanda pur sintetica coloro che abbiano conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022 dunque con una esperienza tra qualche giorno potranno accedere ai concorsi naturalmente fino al 31 dicembre del 2024 dunque tutti i concorsi fino al 31 dicembre a cattedra fino al 21 dicembre 2024 chi ha i 24 cfu conseguiti entro il 31 di ottobre 2022 potrà svolgerli senza aggiunta di cfu ciò evidentemente senza dover svolgere i 30 cfu previsti dalla riforma o i 60 cfu a partire dal 2025 per coloro che non sono riusciti ad acquisire i 24 cfu entro il 31 di ottobre 2022 solo fino al 31 dicembre del 2024 sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 cfu del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ea condizione che a che parte di questi cfu siano di tirocinio diretto dopo il 31 dicembre invece 2024 serviranno 60 cfu questo è quanto previsto dalla legge speriamo che le domande e soprattutto fatte e le risposte ricevute siano di interesse del nostro pubblico seguiteci sui nostri canali social perché faremo dirette anche su questi argomenti e dunque canali facebook e youtube e seguiteci sul nostro sito www.tecnica della scuola un saluto a tutti arrivederci alla prossima puntata